Diverse decine di metri quadrati di rivestimento dei muretti a secco sarebbero stati sottratti nell'indifferenza più totale lungo la strada provinciale 115 che collega Comiso a Ragusa, a denunciare l'accaduto prima sui social e poi in una lunga lettera aperta indirizzata al riconfermato presidente del libero consorzio Dario Cartabellotta, l'esponente del movimento Vittoria che cambia, Nello Dieli. Un fatto gravissimo, sostiene Dieli, se si considera che l'opera pubblica è stata realizzata circa 15 anni fa e ha impreziosito la sede viaria del territorio ebleo già caratteristica di suo. Da semplice cittadino si legge nella lettera nonché portavoce di tanti che, come me hanno a cuore il proprio territorio e il patrimonio pubblico, mi sento indignato per quanto accaduto, soprattutto per la reiterazione di questi atti che continuano liberamente a deturpare il nostro paesaggio. Dieli lamenta uno scarsa interesse da parte delle istituzioni per le strade extracomunali e chiede maggior attenzione e impegno per individuare responsabili degli atti vandalici. L'esponente di Vittoria che cambia fa notare che gli incroci sono quasi tutti coperti da impianti di videosorveglianza pubblici e privati che registrano continuamente il transito veicolare e non solo. Si chiede quindi se gli uffici preposti al controllo si stiano organizzando per visionare gli impianti di videosorveglianza che insistono nella zona. L'appella al commissario Cartabellotta e quindi che si faccia il possibile per individuare gli artefici del furto. Grazie. 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 Grazie.